La vita assomiglia un po' che un tavolo da gioco. Una volta che ti sei seduto, devi essere disposto pure a perdere. Ti sei comprato il ristorante dove ti sei sposato? E poi? La regia di casetta? Io le ho presentato un amico che è Marcella, ma tutti lo chiamano Lendelone. Quello che fai fuori casa, io non lo so, ce non lo voglio sapere. Ti sei scordato? Tu ti mi fatti, io ti faccio fare una bella vita. E non è lì. La malavita non me ne è per te, Marcella. E per un po' di sé. No, non ne! No! Blocca chi? Sto blocco! Non è l'altro. Non è l'altro. No, non è l'altro. Vieni sulle certe cose. No, non è l'altro. Non è l'altro. Non è l'altro. Va bene. Non è l'altro. E' l'altro. Grazie a tutti.